Buonasera a tutti, bentornati, buonasera agli ascoltatori, a chi ci sta guardando in questo momento, siamo in collegamento on air sulla piattaforma gestita dalla libreria Kublai di Lucera a cui chiaramente va il nostro ringraziamento, il ringraziamento dell'Istituto di Storia del Risorgimento, siamo ritornati oggi alle nostre lezioni di storia, approfitto oltre a esprimere i ringraziamenti per la libreria che ci ospita anche per ringraziare l'archivio di Stato di Foggia per il supporto che continua comunque a darci nonostante la situazione in cui stiamo vivendo un po' tutti e andiamo direttamente al nostro ospite, questa sera abbiamo il piacere di scambiare le nostre opinioni, di incontrare Francesco Barbaro. Francesco, permettetemi, due parole di presentazioni, Francesco Barbaro si è laureato in storia contemporanea all'Università di Bologna, è un docente e oramai da lungo tempo svolge attività di ricerca storica, ha alle sue spalle diverse pubblicazioni molto interessanti. Questa sera io vorrei concentrarmi, o meglio, parto da un suo libro di qualche anno fa, La Capitanata nel primo dopoguerra, Biennio Rosso e nascita dei fasci di combattimento pubblicato da Grenzi, editore di Foggia. Bene, Francesco, buonasera. Il tema di questa sera è affascinante, è gli ecci di pugliesi nel primo dopoguerra, cronaca di una guerra civile non dichiarata. Siamo nei mesi successivi, al 18-19, l'Italia esce formalmente vittoriosa dalla guerra, ma in realtà con una serie di contraddizioni che esploderanno di lì a pochi mesi e il tema principale di questa carrellata che facciamo questa sera è focalizzarci su queste contraddizioni però nella nostra provincia, cioè vale a dire in provincia di Foggia. Abro la discussione sottolineando due elementi. Il primo è il sottotitolo che ha questa serata, cronaca di una guerra civile non dichiarata, nel senso che in effetti anche leggendo le cronache di quei mesi, di quei giorni, si ha l'idea quasi di una guerra civile. Il secondo elemento è quello di una percezione del tempo in quel contesto quasi di fine del mondo. Ricordo soltanto che sono i mesi anche della Spagnola, della grande epidemia, quindi non era soltanto una crisi di natura economica o politica, c'era proprio una percezione sociale della crisi che era molto più radicale. Poi entreremo anche nel merito, però non rubo altro tempo e passo la parola direttamente a Francesco Barbaro. Michele, ti ringrazio per la bella presentazione. Hai centrato perfettamente la questione. L'Italia era uscita letteralmente estremata da un conflitto che aveva visto purtroppo ben 600 mila soldati cadere al fronte, altrettanti essere feriti e feriti in malo modo, feriti nel senso resi purtroppo invalidi, da ferite terribili perché le macchine da guerra utilizzate nel primo conflitto mondiale erano macchine terribili. Gas, bombe lanciate non solo da grandi cannoni ma anche da aerei, mitagliatrici che falciavano i soldati che andavano all'assalto in maniera impietosa. fu una guerra terribile. La guerra fu vittoriosa, però quella luna di miele scoffiata il 4 novembre del 1918 con l'armistizio, con la liberazione di Treda e Trieste fu per l'Italia una luna di assolutamente breve, brevissima. L'Italia era rimasta colpita non solo dalla terribile sciagura delle perdite al fronte ma anche, fatto benissimo a ricordare, dalla febbre spagnola che in poco più di due mesi aveva fatto altri 600 mila morti. A Lucena, la città dove si è verificato il primo grave eccilio, i morti erano stati contati anche nell'ordine di 42 al giorno e a morire a Lucena fu anche il vescovo Monsignor Chieppa, il quale fedele a quelle che erano state le sue idee professate in tutta una serie di articoli e di saggi religiosi, si era mosso per andare incontro al suo popolo di fedeli e aveva anche lui contratto la spagnola ed era purtroppo per lui venuto meno da vescovo martire ed eroe in quel caso, anche perché fu l'unico vescovo a morire l'Italia meridionale peninsulare. Detto questo, dicevamo, gli eccidi, io mi sono soffermato su quattro grossi episodi, terribili episodi, quattro eventi che hanno falciato complessivamente una cinquantina di vite e lasciato quindi una scia di ruti terribili. Gli eccidi appunto di Lucena, l'eccidio di Gioia del Colle, l'eccidio di San Giovanni Notondo, è quello di Cerignola. L'eccidio di San Giovanni Notondo, avvenuto il 14 ottobre del 1920, è avvenuto esattamente in pratica cento anni fa. Cento anni fa c'è stato questo anniversario, però noi siamo sostanzialmente nel centenario di questi eventi. Bene ha fatto la storia andare a fare una programmazione che parla appunto del centenario, non il centenario del singolo evento, ma il centenario di quei quattro drammatici anni dal 19 al 22 che portarono alla fine della democrazia inaugurata da Giuritti, seppur affanita in Italia, e all'arrivo di una dittatura che poi portò ulteriori russi perché portò l'Italia nella seconda guerra mondiale e diciamo per cui è un centenario di questo terribile quadriennio. Noi ragionando in quest'ottica andiamo a ricordare oggi che è una giornata particolare quello che è il centenario di una terribile quadriennio che sconvolse la vita dell'Italia e diciamo così bloccò un percorso di crescita della democrazia nell'ambito della monarchia costituzionale presente in Italia e portò l'Italia appunto alla dittatura di Mussolini e quindi alla perdita delle libertà politiche all'avvento di un regime dittatoriale. Dicevamo come in pratica siamo nel centenario, oggi è una data simbolica ma che oggi è il 28 ottobre. Il 28 ottobre del 1922, 98 anni fa, con la marcia sul Roma, Mussolini riuscì a strappare l'incarico di Presidente del Consiglio al re Vittorio Eureterzo e a iniziare quel percorso che in un biennio lo portò ad essere la Presidente del Consiglio al duce, cioè il capo in contrastato dell'Italia, capo in contrastato che poi portò nel giugno 1940 l'Italia nella terribile tragedia della seconda guerra mondiale. Tragedia che fu una tragedia italiana e fu anche una tragedia del nostro territorio perché nella nostra foggia, la nostra foggia appunto nel 43 risultò essere tra le città più bombardate d'Italia, pagando un prezzo enorme di migliaia di morti. Tornando al discorso degli ecili, sono quattro ecili che avvengono praticamente in poco più di due anni e mezzo. Si parte all'ecilio di Lucera dell'11 luglio del 1919 e poi si chiude con l'ecilio della domenica elettorale di sangue del 15 maggio 1921 a Cerignola. Quindi sono quattro eventi che avvengono in un arco temporale assolutamente ristretto, di meno di due anni, di poco più di un anno e mezzo. Quattro eventi che costano la vita una cinquantina di persone in prevalenza, anzi diciamo così, tutti manifestanti, eccezione di una sola vittima tra le forze dell'ordine, una sola vittima vedremo nell'ecilio di San Giovanni Rotondo e quindi questi tre, quattro eventi sono eventi drammatici che avvengono nella nostra Puglia non a caso perché in Puglia c'era una forza socialista che era fortissima, che già nelle elezioni le prime a soffraggio universale maschile del 1913 si era rivelata notevole. Quel clima era un clima determinato anche da quelli che erano eventi apparentemente lontani come la rivoluzione russa che era avvenuta nell'ottobre del 1917. Così Puglia Rossa, che era il periodico della federazione regionale del partito socialista, annunciava quelli che erano i tempi nuovi che si stavano avvertendo nella primavera del 1919, cioè pochi mesi prima del primo grande eccilio, cioè quello di Lucera. E' da tempo che si chiedeva morti e siamo vivi, più vivi di prima. La borghesia c'è del passo. Questa è l'ora dei proletari. Nessuno che a questi non appartengo ha il diritto a montare sul cocchio della storia. La Puglia proletaria della quale noi sentiamo tutta la miseria è pronta sostanzialmente alla rivoluzione. Questo diceva Puglia Rossa e che era un periodico diretto da Alfonso Leonetti, che poi divenne tra i primi direttori dell'unità, perché Alfonso Leonetti poi successivamente aderì alla scissione del partito comunista avvenuta nel gennaio del 1921. Dicevamo ci sono questi eventi, ma io poi citerò anche degli episodi individuali, cioè uno suicidio di omicidi, diremmo noi omicidi politici, che avvennero ed insanguinano soprattutto la nostra provincia di Foggia nel 1921. Vedremo con una cadenza quasi. Francesco scusami se intervengo, ma poi chiaramente va ricordato anche che è vero che il periodo che tu citi tra il 19 e il 21 è un periodo in cui ci sono questi eccidi, ma vale la pena anche ricordare che la provincia di Foggia, la Capitanata, già conosceva una stagione di eccidi prima della Prima Guerra Mondiale. Dal 1902 al 1912, a cominciare dalla dalla strage di Candela all'eccidio anche di Resina, in mezzo c'è di tutto, c'erano già stati diversi episodi a San Marco, a Foggia, di eccidi proletari, diciamo così, ad eccezione dello sciopero del 1905 a Foggia, gestito dai ferrovieri, gli altri erano scioperi, diciamo così, per comodità di linguaggio definiamo gli scioperi contadini, quindi la provincia era già caratterizzata da eventi di questo tipo. Certo, nell'Italia giurittiana poi c'è da dire che in diverse parti dell'Italia, anche a nord, non solo a sud, erano eventi tutt'altro che rari. No, assolutamente, perché giuritti, soprattutto a sud, con i braccianti usava il bastone duro da parte dei militari, in pratica. A Lucera arrivò anche il generale Cadorna, per tenere brava, tra virgolette, la popolazione contadina, in pratica, ma il generale Cadorna, che poi diresse l'esercito italiano, arrivò a Lucera, credo nel 1911, in un'occasione di un grande sciopero previsto in provincia di Foggia. E non solo, ma c'erano i mazzieri, cioè c'erano anche delinquenti pagati da notabili liberali che andavano poi a intimidire gli avversari socialisti. C'è un virrugge tra questi eventi. Quello che però in parte cambia, vedremo, è come in pratica poi abbiamo degli incidenti che non vengono a essere incidenti tradizionali in cui c'è i manifestanti socialisti da una parte e le forze dell'ordine dall'altra. Poi vedremo come c'è l'irrompere a Giolel Colle di una posizione particolare che annuncia lo squadrismo fascista, ma poi anche dello squadrismo fascista. E quindi con queste due parti in campo, i socialisti e i fascisti, i fascisti attaccano, i socialisti rispondono, i fascisti vanno via e poi subentra a completare l'opera le forze dell'ordine. Quindi abbiamo una tradizione di ecidi nella Puglia e soprattutto in Capitanata. Però abbiamo poi un cambio di passo, nel senso che abbiamo l'innescarsi nel processo politico sociale dell'epoca di una nuova figura che è quella appunto dello squadrista fascista in pratica, che va ad alimentare ulteriormente lo scontro sociale e poi dopo praticamente favorisce anche l'azione delle forze dell'ordine che in alcuni casi erano forze dell'ordine guidate anche da esponenti che avevano tutto l'interesse di andare a bastonare tra virgolette i sovversivi socialisti ed evitare quello che era lo sbocco rivoluzionario che i socialisti evocavano in pratica. In quest'ottica il primo eccidio, quello di Lucia dell'11 luglio 1919, è un eccidio classico. Da un lato ci sono manifestanti e dall'altro ci sono le forze dell'ordine. E quindi quell'eccidio dell'11 luglio 1919, del quale l'anno scorso c'è stato praticamente il centenario, è un eccidio che rientra nella tipologia degli eccidi antecedenti alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo uno sciopero nazionale, i muti del carovita andarono sostanzialmente a rompere del tutto la pace sociale presente in Italia, tra il giugno e il luglio 1919. Si contarono ben 100 vittime in tutta Italia, l'eccidio più grave avvenne a Lucera, in provincia di Forcia, costato la vita a ben 10 vittime. Un altro eccidio avvenne anche a Taranto, però lì le vittime furono 4, con una popolazione di Taranto che era enormemente superiore rispetto a quella di Lucera. Però, ripeto, in Puglia c'è una radicalizzazione degli scontri, proprio perché c'era una struttura sociale con una forte contrapposizione tra braccianti e, chiamiamo così, padrone proprietari terrieri, abbiamo la forte presenza sia del movimento sindacale che del Partito Socialista e quindi tutto questo determina uno scontro in Puglia sul modello, tra virgolette, Emiliano-Romagnolo, proprio perché la Puglia con le sue pianure aveva, in pratica, una presenza di grandi aziende, di latifondisti e dall'altra parte masse bracciantili. Dicevamo come il primo eccidio, quello di Lucera, dell'11 luglio 1919, un eccidio particolare. Francesco, scusami se interrompo nuovamente, ma sul quale l'unico testo che esiste è il tuo? Correggimi se dico se non sono corregge. Sì, diciamo, lo studio monografico, sì, c'è uno studio monografico che ho fatto, Lucera la strage dimenticata, con le edizioni del Rossone e poi quella vicenda l'ho anche ripresa in alcune pagine, nella vicenda più complessiva del movimento di prima delle vicende della Capitanata, durante di Roma. Sì, quella è una vicenda particolare, perché io ho trovato del materiale presso l'archivio di Stato di Roma che mi ha consigliato di andare a definire una vicenda particolare perché ovviamente furono tre giorni di scioperi e perché praticamente ci furono in pratica a quello che era una situazione di lotta politica, poi si andarono a concentrare anche altre situazioni occasionali che poi determinano le condizioni per il terribile scondo del pomeriggio dell'11 luglio 1919. Quella vicenda è stata una vicenda terribile e poi una vicenda... No, lo facciamo magari soltanto perché a fine incontro lasceremo un breve spazio alla bibliografia e ti invito magari, se puoi, a mostrare anche il libro sulla strage di Lucera. Certo, no, assolutamente, assolutamente. Dicevo a Lucera... Allora, dicevi, questa è la prima strage, quella di Lucera, poi c'è quella di Gioia del Colle. Poi quella di Gioia del Colle, quella di Gioia del Colle fu, da alcuni punti di vista, ancora più terribile, perché a Lucera ci fu questa classica contrapposizione tra manifestanti, forze dell'ordine e c'era praticamente poi tutto questo in una scenata complessiva in cui in quei giorni c'erano scioperi e lotte un po' in tutta Italia in pratica. Invece la vicenda di Gioia del Colle, raccontata da Alessandro Leogrande nel libro Uomini e Caporali, è una vicenda ancora più drammatica. Lì lo sconto non è tra i braccianti che scendono in piazza per manifestare e chiedere praticamente il ribasso dei prezzi come avuto a Lucera e la... e le forze dell'ordine, ma qui ad entrare in campo sono direttamente i proprietari per ieri. Il primo luglio del 1920 praticamente, a Marzagaglia, vicino a Gioia del Colle, si recarono, perché erano stati chiamati dal proprietario Natale Girardi, una settantina di lavoratori che avevano effettuato lavori abusivi. Che cosa sono i lavori abusivi o d'arbitrari? Nello scontro economico e sociale dell'epoca, in pratica, braccianti, andavano a svolgere i lavori che non erano stati richiesti dai proprietari terrieri e poi andavano a chiedere la paga. Quella che oggi definiamo una pratica da racket o da pizzo, cioè andare a chiedere i soldi per un lavoro che non è stato richiesto, all'epoca era la normalità perché? Perché praticamente per contenere i costi le grandi aziende avevano ridotto i lavori, i braccianti vedevano che c'erano le vigne da andare a lavorare, facevano i lavori e poi andavano a chiedere i soldi la paga. Cosa fa a Gioia del Colle questo Natale Girardi? Dopo aver pagato in più occasioni per questi lavori arbitrari, si riunisce, ecco perché il patto di sangue, il titolo di quattro paragrafi di questo libro di Alessandro Grande, si riunisce praticamente con altri proprietari e organizza un vero e proprio abguardo, una vera e propria imposcata, chiama per essere pagati questi braccianti, ma poi cosa fa? Ordina ai suoi uomini di sparare, i suoi uomini erano nascosti in una masseria con una specie di fortino, ecco e poi se qualcuno ha visto il film ad esempio un mucchio selvaggio, si va a delineare una sparatoria degna della scena finale del mucchio selvaggio, perché da questa palazzina si comincia a sparare sulle persone sottostanti che scappano, ma qui cosa succede? Una quarantina di piccoli proprietari dei terrieri, a cavallo si lanciano praticamente all'inseguimento di questi poveri braccianti che scappavano e fu una strage, morirono ben sei braccianti, il più anziano aveva 70 anni, era Pasquale Capodotto, aveva 70 anni quindi era nato durante il regno delle quei Sicilie, quindi era stato un suddito di Francesco II di Borbone e questo poverino appunto muore a 70 anni, la vittima più giovane fu invece Vita Antonio Resta che aveva solamente 16 anni e questo ragazzino quando incominciò la sparatoria pensò di riuscire a farla franca, si nascose praticamente in un forno del palazzo, aprì praticamente la serranda e si nascose in questo fondo, aspettando praticamente la fine della sparatoria per poter scappare. Per sua sfortuna qualcuno non l'aveva visto e in pratica quel qualcuno andò armato, alzò la sala cinesca, la finestra e gli sparò in faccia. L'accidio di Giole del Colle fu terribile perché praticamente i proprietari terrieri andarono a infierire anche sulle vittime sparandoli in faccia per dare ad alcuni il colpo di grazzo oppure proprio per sfigurare i cannabidi. Ma questo lo dico io, lo dicono e non lo dice l'Alfonso Leogrande, ma lo dicono gli atti giudiziari che sono stati letti da Leogrande, il quale ha avuto modo di vedere anche gli esami autottici e nel quale praticamente si andava a evidenziare il modo barbaro con il quale questi poveri braccianti erano stati trucidati. Ci furono appunto sei morti e ci furono una decina di feriti. La strage sarebbe stata ancora più drammatica se gli organizzatori non si fossero dati un tempo. Gli organizzatori avevano i fucini ma avevano anche gli orologi. Hanno fatto un'operazione che doveva essere compiuta in venti minuti perché loro poi avevano capito che dovevano lasciare il campo di battaglia, il campo di battaglia per muovere perché i braccianti erano disarmati, erano soltanto gli arlesi di lavoro, con le zappe in pratica e ovviamente se ti viene addosso uno a cavallo con un fucile e tu hai la zappa puoi farne poco, diciamo così. E quindi fu un attacco un po' come le giaccherie medievali, i cavalieri che vanno contro i fanti contadini, anche se quelli non erano fanti ma erano dei braccianti disarmati. E dicevo appunto si diedero venti minuti di tempo per realizzare questa strage per poi fuggire alla volta di Putignano perché sapevano che ci sarebbe stata la vittoria, che ci sarebbe stata la vendetta praticamente. Quest'ecilia avvenne all'incirca tra le due e le tre del pomeriggio, in prima serata, verso le sette del pomeriggio, la notizia arrivò anche alla Camera del Lavoro di Gioia del Colle, dopo la notizia arrivarono purtroppo anche le vittime, anche tra i lavori sfigurati e ovviamente il paese fu preso da una voglia di vendetta e quindi i braccianti cominciarono a battere le campagne e a battere le campagne furono uccisi due proprietari terrieri che nulla avevano a che vedere con quella strage ma furono uccisi perché erano proprietari terrieri e quindi praticamente era la vendetta contro l'altra parte. Nel pieno del centro di Castellaneta di Gioia del Colle fu ucciso anche uno proprietario che era stato sospettato di essere tra gli organizzatori ma che non aveva partecipato direttamente a quel massacro il quale appunto fu in pratica raggiunto, era Vito Fiorentino, il quale stava facendo la fila alle poste perché non pensava che sospettassero i luvi. Fu raggiunto e fu ucciso a coltellata pugni a calci e così come erano stati sfigurati i volti dei braccianti fu sfigurato anche il suo rivolto però il suo volto non fu sfigurato con un colpo di doppietta bruciapeno diciamo così ma fu sfigurato da un masso enorme che gli sostanzialmente troncò la testa. Per dirvi come quello che era successo cioè la prima guerra mondiale, la febbre spagnola che aveva citato Michele, aveva innescato veramente una terribile abitudine a in questo caso non solo andare alla morte ma addirittura anche a infierire su quello che poteva essere l'avversario, il nemico, non so come lo vogliamo andare a definire e quindi lì abbiamo sei morti il primo luglio e poi tra il 2 e il 3 luglio tre morti tra l'altra parte infatti dalle tue parole emerge un quadro emerge anche forte una domanda Francesco cioè quanto quanto diciamo al di là delle morti in sé anche la modalità cioè tanta violenza non è una non è una come dire come fai a spiegare anche storicamente questo questa questa violenza estrema se non riferendoti ai tre anni passati nelle trincee voglio dire questa è gente che aveva alle spalle o l'esperienza diretta del conflitto molte volte esatto una come dire una socializzazione estrema della violenza che che fino a un certo punto sta è stata nelle trincee e poi è trasbordata in tutta la società italiana questo è quello che accade in quei mesi Michele nella nella negli assalti alla trincee austriaci questo per quanto riguarda gioia del pollo poi c'è eh quello che tu hai ricordato prima i fatti di san giovanni rotondo e sì infatti primo luglio 1920 l'eccidio terribile che poi in realtà primo luglio e con la il sequel diciamo così delle vittime poi dopo un anno si ritrovano di fronte eh perché furono processati assieme chi aveva ucciso i braccianti e chi aveva ucciso noi ogni tanto noi ci dimentichiamo di questo in due in due come si in due praticamente erano separati da le sbarre in pratica erano in due gabbie no gli assassini del primo momento e del secondo momento e poi appunto dopo un pochi mesi abbiamo in pratica la strage avvenuta del cui c'è stato praticamente il centenario eh due settimane fa la strage avvenuta a san giovanni rotondo abbiamo le elezioni amministrative eh in provincia di Foggia in Capitanata c'era stato già nel diciannove una grande vittoria dei socialisti che hanno eletto ben tre deputati Leone Mucci, Domenico Maiolo e Michele Maitilasso il quale Maitilasso dei fatti Lucera del diciannove era stato arrestato indiustamente dopo essere stato arrestato indiustamente era stato rilasciato eletto al Parlamento ed era stato poi anche avvocato difensore di coloro i quali erano andati al processo quindi in quella vicenda Michele Maitilasso ha vissuto tutte eh tutte e tre le fasi era stato organizzato lo sciopero arrestato e poi divenne anche eh divenne anche avvocato difensore degli imputati per quei fatti eh dicevamo come in pratica eh a san giovanni rotondo a san giovanni rotondo in pratica c'erano le elezioni eh le elezioni erano in tutta la provincia di Foggia si votava sia per la provincia all'epoca non si votava in un'unica domenica si votavano le quattro domeniche di tutto il mese di ottobre si sarebbe votato sia il consigliere provinciale del mandamento di san giovanni e sia l'amministrazione l'amministrazione comunale a san giovanni rotondo era caduta era caduta perché il comune era stato letteralmente assediato e spugnato da combattenti eh pochi primi siti in pratica eh a contendersi erano una lista di popolari e eh combattenti che è la lista dei socialisti eh in pratica a vincere per solamente 200 voti furono eh i socialisti ma questa vittoria praticamente non è stata tra virgolette accettata dai gli avversari i quali è un accusato di brogli elettorali socialisti e questa pagina è una pagina particolare perché a san giovanni rotondo era eh già operante padre Pio così accolse eh Spartaco che era il settimanale della federazione provinciale socialista di Capitanata il risultato elettorale di di eh di san giovanni a san giovanni rotondo dove padre Pio fa il bello e il cattivo tempo i popolari sono stati battuti nonostante la violenza e la corruzione che gli indegni ed immorali dei scemo di Cristo hanno commesso a danno nostro con l'aiuto dell'arma dei reggi carabinieri e delle autorità locali la violenza usata contro l'automobile e andava praticamente a eh citare un episodio cioè un primo episodio di violenza nella domenica del 3 ottobre contro la macchina dell'onorevole Michele dell'onorevole Reone Mucci che si era recato a san giovanni rotondo per dare manforto manforte ai socialisti quindi il clima di tensione era grande i socialisti vogliono portare in pratica la bandiera rossa sul eh municipio di san giovanni rotondo i combattenti popolari organizzano una contromanifestazione in pratica abbiamo dinanzi al municipio le due masse la massa dei socialisti che vorrebbero festeggiare la loro vittoria la massa di chi contestava per la vittoria e poi abbiamo praticamente chi abbiamo eh le forze dell'ordine e soldati e carabinieri in circostanze a proposito di quello eh che tu dell'episodio che stai citando io vorrei ricordare anche ehm un lavoro uscito qualche anno fa di uno storico italiano che Sergio Luzzato che ha scritto un libro eh su padre Pio una diciamo una lettura storiografica un po' diversa dell'esperienza eh dell'esperienza eh tra virgolette politica di padre Pio in cui si sostiene che eh padre Pio avesse in qualche modo benedetto eh i i nazionalisti che eh i nazionalisti i conservatori eccetera i i reduci la sezione dei reduci di San Giovanni e che eh a San Giovanni Rotondo questa forse è una peculiarità del di San Giovanni rispetto ad altri contesti italiani addirittura erano apparsi eh gli arditi di Cristo o questo tema è storicamente dibattuto e discusso però vero anche che è che la cosa su cui si può eh concordare è che eh cito testualmente il testo eh la la presenza di padre Pio è stato un elemento di radicalizzazione dello scontro politico eh locale che era in atto in quel momento. Eh infatti poi neppure a fare apposta lo scontro non è eh tra liberali e socialisti ma tra una lista del partito popolare fondato dal da da non Giovanni Sturzo eh l'anno precedente in pratica abbiamo il candidato del partito popolare Leandro Giuva che era stato con i popolari poi passa ai combattenti e poi nel venti tre diventa fascista il quale addirittura questo candidato alla provincia che fu sconfitto per duecento voti dal candidato socialista di maggio nel venti tre rivendicò fece una sorta di rivendicazione politica ecco volendo usare un linguaggio da anni di più o meno anni settanta eh perché sul foglietto in un intervistato disse noi siamo stati i primi a dare una lezione fascista ai socialisti a San Giovanni Odonto nell'ottobre del 1920 ecco perché quell'ecidio eh fu rivendicato politicamente da chi in quella piazza era andato per contestare e probabilmente la bomba a mano che innescò poi la sparatoria che costò la vita a ben tredici manifestanti ad un carabiniere quella bomba a mano fu lanciata o dagli addirittura di Cristo o comunque da quella parte praticamente politica che era andata a contestare il corte socialista e i socialisti a zicca essere armati avranno portato avranno fatto io la banda da San Marco eh in Lames insomma per cantare magari internazionale queste canzoni però per dire non erano andati lì per per sparare però fatto sta che si andò a verificare questo terribile eccidio che segna un cambio di lotta perché abbiamo appunto la lotta tra due parti politiche e l'inserimento in pratica delle forze dell'ordine ovviamente anche nelle cilie di Giorgio del Colle abbiamo questa situazione praticamente dei proprietari terrieri che praticamente dicono voi siete molti quindi ci imponete di pagarvi il lavoro arbitrario perché siete molti noi ci abbiamo e comunque c'è il problema anche delle notizie che rivolgono alla Russia anche perché ripeto il giornale i giornali Puglia Rossa ma anche Spartaco eh parlavano praticamente di fare in Puglia eh in Italia ciò che era stato fatto in Russia insomma ecco e che la famiglia Romanov in Russia fosse stata diciamo così uccisa nel diciotto si è venuta a segnare anche in Italia non sopra ecco per dire quindi c'era un discorso e voi parlate di farci violenza e loro ne usiamo violenza quando di voi ecco papà andiamo con la famosa teoria della contro rivoluzione preventiva fascista eh dei vecchi testi di Angelo Tascano ma sostanzialmente è quello che si parla di in Puglia quello quello che tu stai dicendo mi mi spinge anche un'altra considerazione eh quello di relazionare i fatti di San Giovanni di Rotondo con quanto accade a Bologna di lì a poco ha parlato di i fatti di Palazzo da Cursio. Ha successo la stessa cosa a San Giovanni Rotondo ci furono 14 morti fu arrestato fu arrestato il Consiglio Provinciale di Maggio il sindaco Tamburrano furono arrestati in massa ma il Tribunale di Lucera non rinviò a giudizio questi arrestati perché dalle testimonianze si evinse che cosa? Che Di Maggio e Tamburrano cioè il sindaco di San Giovanni Rotondo Tamburrano il Consiglio Provinciale di San Giovanni Rotondo dal balcone erano apparsi ma per invitare i socialisti a non accettare provocazioni per invitare alla pace diciamo così stessa cosa successe anche per Machilasso anche Machilasso fu arrestato però poi non fu neppure rinviato a giudizio perché si evinse dalle testimonianze che aveva fatto un ruolo di paciere diciamo così quindi aveva tentato di evitare il conflitto non aveva portato al conflitto e quindi anche queste forze dell'ordine che arrestano Michele Medilasso a Lucera nel 19 che arrestano Tamurrano nel 20 a San Giovanni Rotondo e che poi arresteranno anche Giuseppe Di Vittorio. Giuseppe Di Vittorio viene arrestato per i fatti di Cerniola del febbraio del 1921 ma viene arrestato per la pubblicità corrispettiva perché cosa succede? I fascisti a Cerniola cominciano a provocare alcuni braccianti più esaggetati iscritti alla Liga Contalina fanno anche delle campagne di Cerniola quello che era successo a Giuseppe Colle cioè cominciano a sparare ai calessi dove c'erano praticamente i proprietari purtroppo ci scappa anche un morto il figlio di un proprietario di Vincenzo Specchio praticamente e praticamente cosa succede? Succede che Di Vittorio viene arrestato per comicità corrispettiva cioè si dice abbiamo arrestato uno dei tuoi e tu sei colpevole insomma ovviamente aveva 12.000 iscritti figurarsi era un'accusa che non stava nel giro interno però servì a portare di Vittorio nel carcere di Lucera di Vittorio quando fu eletto il 15 maggio del 1921 fu eletto senza fare cominci praticamente perché era ristretto nel nostro tra virgolette di permettere carcere di Lucera che è distante in Liga d'aria poco più di 800 metri dalla dalla libreria che ci ospita in pratica e dicevamo come c'è anche questo discorso di andare a sfruttare questi eventi per poi andare a decapitare quelle che erano le organizzazioni socialisti fatte da una polizia che era mai sapeva che il nemico erano in pratica i socialisti perché erano quelli che dicevano di voler fare la rivoluzione poi il problema tu me lo potresti insegnare come i massimalisti in Puglia non solo parlano di rivoluzione però poi non realizzano nulla insomma un conto è parlare un conto poi è colpire insomma i massimalisti parlarono ma poi non furono in grado di realizzare una rivoluzione però andarono a creare quel clima di paura che poi andò praticamente anche a originare anche quel clima di diciamo di violenza in alcuni casi fu anche di violenza insomma io devo dire ho trovato ecco ad esempio a san zeleno in pratica abbiamo avuto la un sempre nel luglio del 1920 oresti d'anzio un avvocato mandato all'ospedale in vitivita perché il fratello non aveva voluto pagare diciamo così i lavori arbitrari e quindi appostano i due fratelli e viene riferito pure quello tra virgolette che non c'entrava nulla insomma mi si passi questo termine magari fosse un po' gretto nel senso che anche dall'altra parte da parte socialisti c'era una ebrezza rivoluzionare che portava alcuni a fare gesti erano sconsiderati quale quello di andare ad usare alle armi uno dei primi omicidi politici che segnalo la svolta avvenne ad ascoli satrano nel febbraio del 1920 e venne assassinato il capolega tale giuseppe anguilano fu assassinato alle 11 di sera ad ascoli satrano perché si scontro contro i due fratelli i quali si rispetto a san giovanni rotondo per esempio san giovanni rotondo praticamente quello che successe anticipò i fatti di palazzo d'accursio i famosi fatti di palazzo d'accursio che hanno trovato grande spazio nel libro ad esempio di scurati nel libro premio di scurati io per esempio quando tu parlavi san giovanni rotondo non abbiamo per correttezza dobbiamo anche aggiungere che l'altro elemento l'altro elemento che giocavano i socialisti era l'anticlericalismo quindi da una parte abbiamo la presenza di padre pio insomma è il ruolo della chiesa locale dall'altra parte abbiamo anche l'anticlericalismo per esempio dei socialisti a cominciare dallo stesso leone mucci e sì erano antitericali infatti anche lì io ho citato quel passaggio di spartico che era irriverente no a san giovanni rotondo padre pio fa il bello e il cattivo tempo insomma era un modo irriverente perché erano ovviamente anticlericali altronde insomma era era l'enna valente e dicevo come i fatti di san giovanni rotondo furono anticipatori dei fatti francesco allora mentre la corsa a bologna in pratica perché diceva che stavi dicendo scusami e diciamo così lenin diceva appunto la religione l'occhio dei popoli quindi da questo punto di vista c'era c'è qualche problema tecnico aspettiamo francesco francesco mi senti io io ti sento ti sento mi sentite voi io mi sento mi sentite mi sentite sì dicevo eh praticamente tu citavi poco fa citavi sì stavo citando palazzo d'accurso praticamente a bologna dove ci furono dove quando fu insediato il consiglio comunale anche lì c'era l'amministrazione socialista e gli squadristi organizzarono delle contestazioni che poi portarono a degli scontri questi scontri praticamente il servizio d'ordine socialista lanciò alcune bombe eh morirono praticamente oltre dieci manifestanti e fu ucciso anche sì sì va bene ti sentiamo senti francesco eh tu prima citavi l'esempio di eh giuseppe di vittorio no? E eh che che ha che ruota attorno l'esperienza di Cerignola così passiamo all'ultimo episodio di questo racconto mi riferisco alla strage di Cerignola del 1921 cosa puoi dirci al riguardo? Eh lì praticamente le vicende a Cerignola ci fu già una prima vittima appunto il con un un vigile urbano tale Giuseppe Leone a febbraio e quindi ci fu un'azione violenta condotta praticamente dai dal fascio di di Cerignola guidato da Giuseppe Cararonda praticamente ci furono scontri eh in quell'occasione dell'omicidio Leone praticamente che fu colpito da palotta vacante fu arrestato anche il sindaco eh del di Cerignola e quindi fu decapitata l'amministrazione comunale si arrivò alla giornata elettorale del 15 marzo 1921 la maggior parte dei dirigenti era stata arrestata o per un motivo o per un'altra da De Martino il quale poi fu rimosso dal commissario di pubblica sicurezza a Cerignola che poi fu rimosso a causa di una inchiesta che andò ad appurare come lui fosse. Francesco vuoi parlarci dei fatti di Cerignola del 1921? Sì eh dicevo praticamente come in pratica nella domenica elettorale eh cosa successe? Eh successe praticamente che alcuni eh fascisti andarono a impedire ai ai contadini in pratica di andare a votare e quando ci furono le prime sparatorie praticamente e quindi cosa successe che eh i socialisti privi di una guida andarono nei loro rioni popolari a fare una sorta di sommossa andando praticamente a fare degli steccati con i traini in pratica eh i traini nel senso i vecchi carretti in pratica e quindi in pratica si venne a creare uno sconto tra fascisti e socialisti. Cosa successe? Che i i fascisti scapparono, i socialisti rimasero in queste improvvisate postazioni tattiche messe lì in pratica e furono bersagliati dai carabinieri. Un'intera famiglia, la famiglia bancone, fu uccisi madre e tutti e due i figli. Il primo figlio, madre e figlio morirono diciamo così nei pressi di questa di questa improvvisata struttura difensiva mentre poi il terzo figlio morì nel carcere lucera a causa delle conseguenze di questa di queste ferite ma ci furono praticamente nel nelle nelle elezioni nel 1921 eh un centinaio di morti in pratica di questi purtroppo ben nome a eh a Cilignola. Il risultato fu che su diecimila elettori votarono solamente in tre mila e cinquecento e il fascio ebbe tre mila e trecento voti e i socialisti ebbero duecento voti. Insomma di Vittorio la sua prima elezione fu senza i voti dei suoi eh concittadini che furono messi eh nella impossibilità di andare a votare. Insomma fu una una situazione terribile che fu purtroppo determinata anche dall'assenza dei capi i quali avrebbero potuto evitare eh evitare praticamente che si andasse a a trascendere in pratica però lì fu tutta una situazione per i primi ben organizzata. Io questo eh Cilio appunto eh fu eh terribile però oltre a queste Cilio io vorrei andare a citare eh altri eh episodi in pratica eh che andarono praticamente a a delineare in quegli anni che cosa eh in anzi in quei mesi diciamo così una sorta di vera e propria eh guerra civile perché eh cosa successero? Successero questi quattro grandi ecidi però a questi quattro grandi ecidi vanno abbinati che cosa? Una serie di eh di vicende in pratica minori. Una fu quella appunto di Ascoli Satreane di Ascoli Satreano quando il 13 febbraio del 1921 ci fu la morte di eh di Giuseppe Aguilano morte per la quale praticamente eh fu assolto nonato Chieffo perché risultò praticamente legittima eh difesa. Però cosa successe ad Ascoli Satreano? Ad Ascoli Satreano i fratelli Chieffo scapparono in un villino di proprietà del capo del fascio e quindi poi ci fu un'aspetto di sommossa insomma e ci fu una tutta una serie di arresti tra cui anche quella di Paolo Anguilano che era il fratello della vittima il quale si era poi messo a capo dei socialisti per andare a trovare tra virgolette eh vendetta immediata. Eh dopo poche settimane 13 febbraio 1921 ad Ascoli Satreano poi abbiamo per gli 7 febbraio 1921 a Cerignola la morte praticamente della guardia municipale eh Giuseppe Leone in scontri in pratica poi abbiamo che cosa 10 a pieni 1921 abbiamo un altro episodio gravissimo praticamente i comunisti di Capitarata organizzano il loro congresso provinciale con eh Luigi Allegato praticamente giovanissimo va a San Silero anche il segretario nazionale del partito comunista l'Italia a meglio Bordica ma viene organizzata una spedizione punitiva da Cerignola eh ma i militanti comunisti e socialisti di San Silero rispondono al fuoco e praticamente muore Raffaele Daserpe che era uno squadrista cerignolano in pratica ma ovviamente seguono queste queste serie di vicende il 12 maggio 1921 sempre in Capitanata a Trinitapoli muore il socialista Giuseppe Di Bari e viene ferito gravemente un altro socialista Tattoli sempre a Trinitapoli sei giorni dopo viene ucciso il fascista Luigi Torre dal socialista Luigi Saccina Saccina va a processo e viene assolto per legittima difesa insomma quindi non solo ma eh poco dopo un paio di mesi dopo abbiamo 14 luglio 1921 ad Ortanova abbiamo la morte di Ruggero Falcone che era un 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 ferroviere ucciso da una pallottola padante perché c'era stato uno sconto tra fascisti eh e socialisti pochi giorni dopo 14 luglio 1921 pochi giorni dopo 18 luglio 1921 da Capo si torna a morire a San Silero a morire è un socialista Michele del vicario eh il quale ferito si rifugia in un basso purtroppo eh gli squadristi intuiscono dov'è eh entrono in questo basso si accorgono che si era nascosto sotto un letto e sparano praticamente a quel letto e lo criverono i colpi e lo portano alla morte ma l'omicidio del vicario che fu un omicidio assolutamente eh efferato eh venne dopo eh alcuni giorni di scontri avvenuti a San Silero nel quale c'erano stati feriti arresti da ambo le parti e l'omicidio del vicario portò eh i socialisti anche ad invocare una sorta di pacificazione ehm così scrisse Spartaco a con l'omicidio del vicario noi non vogliamo attartarci a descrivere minutamente gli incidenti dei giorni scorsi ne vogliamo ripeterci del modo come fu ucciso il popolo del vicario ma eh vogliamo che se le autorità muteranno e se gli uri di buona volontà non resteranno ancora a subire il domenio della violenza torni la civiltà a fiorire quindi c'era la parte dei socialisti che mentre nella vicenda di Ascoli Satreano hanno detto dobbiamo farci giustizia eh da noi dopo alcuni mesi cambiano totalmente in pratica il registo e cominciano a dire torni a fiorire la civiltà da noi in capitanata poniamo fine a questa serie di eh di vittime ma in realtà un mese dopo questa volta da capo sul Gargano a San Marquillamis abbiamo un'altra vittima perché il capo del fascio locale eh Michele Mimmo uccide eh un socialista Michele Russo e ne ferisce gravemente un altro a pistolettato lui stesso mi riferito da alcune coltellate in modo non molto eh molto grave e queste se questa serie di uccisioni proseguì eh nel sottotitolo ed ebbe purtroppo come ultimo momento diciamo così nel 1924 da capo sul Gargano nel ventiquattro abbiamo avuto praticamente il fascismo è andato già al potere però cosa abbiamo abbiamo le elezioni quelle che dovevano tra virgolette dare il potere a Mussolini e in quelle elezioni i repubblicani hanno un candidato locale a Vico del Gargano Michele Lanzetta il quale vorrebbe a pochi giorni dal voto organizzare un comizio i fascisti sanno del comizio e organizzano un contro comizio al quale parteciparono Caradonna, Gabriele Canelli, Tommaso Ventrella e anche il prefetto di Foggia Filoteo Lozzi il quale era prefetto però faceva il comizio assieme ai candidati del PNF tanto per dare l'idea di una vicenda che come erava preso e nonostante questo comizio vogliono utilizzare il comizio praticamente i repubblicani cominciano a sparare praticamente i fascisti e a morire muore un povero ragazzino di eh di dieci anni Pasquale D'Apolito il 3 aprile 1924 che fu un po' l'ultima vittima terribilmente simbolica di questa terribile scia di sangue che andò a colpire eh la Puglia e nello specifico la nostra provincia di Foggia una vittima tanto più brutta quella vicenda perché a morire fu un innocente cioè un ragazzino di dieci anni che si trovò a passare eh in strada e si trovò colpito da una pallottola padante. Michele Dimmi io eh con questa carrellata eh di eventi eh l'ho creata diciamo così per dare eh una eh significazione a quel sottotitolo che abbia detto Crolla che è una guerra civile non dichiarata proprio perché eh sono una serie di sono una serie di eh di eventi terribili che avvengono nel giro di pochi mesi ovviamente non posso parlare degli eventi del 22 altrimenti poi andiamo a sfondare eh a sfondare i tempi però nel 22 a San Nicando Gargano arrivò anche uno dei maggiori esponenti dello squadrismo nazionale Dino Perroni eh Perroni eh Francesco ti ringrazio eh io temo che ci siano dei ritardi nell'audio spero soltanto che chi ci ascolta a sono arrivate alcune domande Michele ad esempio sull'omicidio del vicario quindi penso che più o meno si sia riuscito a sedire diciamo così. Allora io mentre ci arrivano già delle domande Francesco volevo semplicemente allora c'è ti dico ti lancio due o tre input nel senso Dimmi Dimmi Michele ti ascolto sì Francesco eh mentre eh eh niente ci ci arrivano un po' di domande allora vado cerco di andare in ordine eh sintetizzando se se mi è consentito esatto la prima è in realtà è una richiesta di la prima viene da eh Pasquale Boni che giustamente dice la figura e il ruolo di eh Padre Pio vanno contestualizzati corretto è vero eh noi per esigenze eh diciamo eh legate al al alla modalità siamo costretti alla sintesi comunque la la vicenda di Padre Pio andrebbe eh va va focalizzata sicuramente è soltanto un aspetto una pagina quella che abbiamo citato di un percorso molto più ampio io a a questo proposito eh mentre eh invito Francesco a preparare i suoi libri eh vorrei citare due o tre eh due o tre testi eh a riguardo che in parte abbiamo già citati però eh padre Pio va eh contestualizzato giustamente nel contesto del Gargano della provincia di Foggia di quegli anni e eh a me piace ricordare sempre una un passaggio che eh in sé eh non ha non in sé non c'è una relazione ma la relazione sta nel tessuto sociale e culturale in cui si sviluppano questi processi voglio dire negli stessi anni a ridosso del della prima guerra mondiale noi abbiamo la presenza di Padre Pio a San Giovanni Rotondo con una forma di religiosità anche all'interno della Chiesa Cattolica eh sui generis a meno eh particolare definiamola così e da a pochi chilometri di distanza a San Nicandro Garganico noi abbiamo un altro fatto eccezionale a modo suo la nascita di di una comunità ebraica che questi due elementi non hanno nulla non c'è una relazione anche in diretta fra loro ma ci dicono di un tessuto in questo caso il Gargano ma non solo eh dove si mischiano visionerismo religiosità popolare sincretismo eh superstizione insomma anche un mondo in qualche modo eh per certi aspetti ancora con dinamiche quasi medioevali per certi aspetti su questo si innesca una modernità dirompente grazie anche alla prima guerra mondiale però questo discorso poi ci porterebbe molto molto lontani io invece volevo per ritornare a noi ricordare il libro di Sergio Luzzato delle Inaudi su Padre Pio volevo ricordare il libro di Francesco Barbaro la capitanata nel primo dopoguerra eh biennio rosso e nascita dei fasci di combattimento di Grenzi editori di Foggia e visto che ho citato il caso degli ebrei di San Nicandro volevo anche ricordare il libro di il bel libro di John Davis gli ebrei di San Nicandro pubblicati dalla Giuntina eh c'è un'altra domanda Francesco Mario Muccedola ci chiede se c'è qualche riferimento bibliografico per quanto riguarda i fatti di San Severo e nello specifico l'omicidio di Del Vicario ma io l'omicidio di Del Vicario è stato trattato in diversi libri ne ha parlato sia la Colarizzi nel libro sul primo dopoguerra in Puglia un libro che aveva la eh la eh prefazione di Renzo De Felice eh questa vicenda è stata affrontata anche da eh un libro di Michele Magno Galantuomini e Proletari in Puglia eh poi io ne ho parlato di questa terribile vicenda avendo appunti sia appunti eh presi sia da rapporti dei prefetti eh del del prefetto dell'epoca praticamente che informò della faccenda anche il ministro degli interni e poi ho preso appunti anche la spartola e il foglietto praticamente e ne ho ne ho parlato di questa terribile vicenda sia in un saggio che ho pubblicato con eh praticamente il centro studi di eh Capitanata eh praticamente col centro di ricerca e documentazione di San Severo eh diretto egregiamente eh dal da Peppino Clemente io eh ho pubblicato un saggio sul lotte sociali eh a San Severo eh nel primo dopoguerra ma questa pubblicazione che io feci a San Severo credo nel duemilatré diciamo così poi di questa vicenda ne ho parlato anche in questo libro eh che ho pubblicato io la Capitanata nel primo dopoguerra che è l'evoluzione del mio eh lavoro di tesi per cui su San Severo noi abbiamo elementi di questa terribile vicenda sia nel libro Lavorarizzi sia nel libro di Michele Magno sono libri ovviamente stampati degli anni settanta ottanta che sono andati eh finiti diciamo e poi eh nel nei quaderni eh di Capitanata editi dal dal centro di ricerca e documentazione storica era credo quello del del duemilatré perché io sui fatti di San Severo tendi una conferenza al Cicolella a San Severo nel nell'autunno del duemilatré e quindi quella che è stata una vicenda terribile eh però a San Severo ovviamente c'era una grande forza perché c'era la presenza di Lone Mucci e poi San Severo la terra che ha dato i Natali anche a ad allegato che fu eh senatore della Repubblica presidente della provincia insomma una figura importantissima insomma un po' di ovviamente da San Severo ha avuto anche Carmine Cannellonca insomma ha avuto tutta una serie di eh di personaggi di spicco eh dicevamo io ho ritenuto di andare a mettere assieme questi quattro episodi tre della provincia di Foggia e eh uno è venuto nella vicina provincia di Bari e poi voler citare questa serie di 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 situazioni per voler fare anche una situazione diciamo così cronachistica purtroppo ripeto cento anni fa c'è stata la eh c'è stata questa terribile eh terribile eh vicenda eh mi chiedono in quale libreria noi adesso a Lucera ovviamente è possibile trovare eh i libri presso la libreria Kublai ecco sia eh il libro che ho scritto appunto sulla capitale del Piero Comerra ma c'è anche il libro questo libro di Alessandro Leogrande Uomini e Caporali che è un libro nel quale si parla di varie storie tra cui anche quella storia terribile che ho raccontato del massacro avvenuto a a Giove del Colle però su questa su questo periodo ci sono altri volumi io consiglierei ovviamente su questo periodo dal punto di vista nazionale assolutamente ben fatto il libro di Scurati che parla di Mussolini ma ricostruisce perfettamente anche le vicende di squadristi poi c'è quest'altro volume di Mimmo Franzinelli squadristi io ho eh di questo volume ho eh e in questo volume compaiono del Ciro di Lucera compaiono del Ciro di San Giorno di Rotondo compaiono tutte queste vicende anche perché c'è alla fine una cronologia fatta eh molto bene questo libro di Mimmo Franzinelli un libro che è di una quindicina anni fa di Mondadori ma che è stato ristampato eh lo scorso anno con un'altra casa editrice perché appunto nel centenario in pratica Franzinelli ha riproposto quest'opera che è un'opera squadristi che ha ricostruito eh i fatti di sangue avvenuti tra il 19 ed il 22 sia ricostruzioni specifiche e sia ricostruzioni eh con una cronologia sintetica in pratica dei fatti poi su Lucera le ciro di Lucera praticamente c'è quest'altro libro mio poi sulle ciro di San Giorno di Rotondo c'è un libro di tedesco di Antonio Tedesco dimmi di Antonio Tedesco eh quella fucilata nella piazza eh che non ho eh con me diciamo così in questo momento in pratica ma è un libro assolutamente ok no volevo semplicemente avviarci se non ci sono altre domande io volevo citare solo una cosa in pratica De Maio Ernesto De Maio in pratica c'è il nipote di De Maio in pratica il quale era praticamente il bersaglio dei fascisti volevo semplicemente dire che dimmi sì no mi è arrivata praticamente eh da Facebook mi è arrivata praticamente una citazione su Ernesto De Maio che è il nipote omonimo di quell'Ernesto De Maio vittima delle eh delle dei socclusi eh fascisti eh e nell'ambito di queste vicende ci fu appunto l'omicidio di eh di di Falcone avvenuto nel luglio del 1921 in pratica in sconti tra socialisti e fascisti insomma in questo caso posso dire a De Maio che eh eh io ho scritto molto anche di De Maio su questo mio libro la capitale del primo nuovo guerra perché due giorni dopo i fatti di Orta Nuova De Maio denunciò quello che era successo a Orta Nuova cioè la morte del povero Falcone eh nel pieno del consiglio eh provinciale io ho trovato gli atti del consiglio eh provinciale nel quale c'era l'intervento di eh di De Maio il quale appunto eh denunciava il clima di violenza politica che era stato instaurato a a Orta Nuova e che poi portò De Maio ad ad alle dimissioni insomma perché De Maio poi ad un certo punto eh ha toccato per la sua vita e quindi è stato costretto alle dimissioni lui come come tanti altri in pratica e l'unica cosa che volevo dire Michele eh avevo perso l'ultima cosa che volevo dire evidentemente per richiudere e giustificare anche la presenza di eh di Peppino Di Vagno nel manifesto della conferenza che abbiamo organizzato perché eh tra gli omicidi politici eh più terribili ci fu anche quello di del deputato socialista eh Peppino Di Vagno il quale fu ucciso il 23 settembre del 1921 a Mola di Bari fu ucciso mentre faceva un comizio in pratica fu prima avversariato da alcune bombe e poi fu di rivoltella ad opera di squadristi quello fu il primo omicidio di un parlamentare che anticipò di eh alcuni anni la terribile vicenda di Giacomo Matteotti ecco perché la Puglia è stato purtroppo un laboratorio di quella terribile eh guerra civile che andò in scena eh in Italia tra il diciannove ed il ventidue Michele dimmi Michele dimmi Michele mi senti Michele? Michele vogliamo andare alle conclusioni della conferenza? Michele? 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 Ah chiudo io allora eh temo che ci siano dei problemi tecnici che non consentono a Michele di eh di poter fare le conclusioni Michele ci siamo? Ovviamente per dirla con le parole di un decano della televisione eh italiana diciamo. Tra l'altro è giusto anche ricordare che la seconda rielezione a Montecitorio da parte di Leone Mucci è collegata all'omicidio di Vagno. Sì eh sì perché Mucci non fu rieletto nel maggio del 1921 per pochi voti parichente. Nel maggio del 1921 furono eletti per la provincia di Foggia il più suffragato fu di Vittorio poi ci fu praticamente Michele Maitilasso, Domenico Maiolo e Mucci non riuscì a rientrare. Va bene. Però purtroppo la disgrazia dell'omicidio di eh di 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 Vagno eh consente a Mucci di andare a al Parlamento. Di Vagno che era un avvocato anche lui che era stato minacciato più volte dai socialisti, dai fascisti e che però aveva voluto tenere quel comizio a Bari. Eh Di Vagno si era anche armato però ovviamente se tu hai una pistola per difenderti ma ti lanciano bomba a mano e ti sparano in cinque sei contro e ovviamente ovviamente purtroppo le corse per lui andarono in modo terribilemente male. Era detto del gigante buono perché era un uomo che si era prodigato. Poi una caratteristica particolare di Peppio Vagno come Matteotti era figlio di un piccolo pietro terriero quindi una personaggiata che aveva studiato ma che però aveva ritenuto come tanti esponenti di una certa borghesia di andare incontro alle eh esigenze dei ceti popolari che vivono in condizioni di di terribile di terribile miseria. Io non so se riesco a dare la parola a al al presidente eh della nostra associazione eh il professor Michele Presutto oppure se sarò io in pratica a eh a a salutare il pubblico ripeto chiedo scusa se eh da parte mia ci possa essere stata qualche eh imprecisione perché eh devo dire che io sono un insegnante quindi ho una certa consuetudine eh a causa della didattica a distanza che ho fatto l'anno scorso con le telecamere però è la prima conferenza in assoluto che faccio con eh con in diretta streaming diciamo così e quindi anche alcuni momenti medi in sicurezza sono determinati dal fatto di aver dovuto in questa occasione rompere il ghiaccio però eh se è possibile fare cultura fare memoria storica tramite Facebook tramite le dirette streaming ben venga perché purtroppo in questo momento appunto le ristrettezze del covid non ci consentono di fare eh lezioni di fare lezioni di storia perché questa conferenza rientra nelle lezioni di storia che organizzano diversi anni la nostra associazione però allora ben venga questo modo alternativo di andare a parlare di storia e ripeto con con col professor Presutto con Michele ci siamo andati appunto eh in carico non solo di andare a parlare di storia ma anche di segnalare questi libri come il libro di Franzinelli come il libro di Lio Grande o i libri che sono in biblioteca come il libro di Magno come il libro della Colarizzi perché questi incontri possono anche essere un'occasione non solo di far suscitare delle curiosità da parte dei partecipanti a queste iniziative ma anche la possibilità a chi ha delle curiosità di andarle poi a togliere del tutto di andare a fare degli approfondimenti andando a leggere i libri eh del caso io credo di poter concludere qui eh questa conferenza e spero che sia stata eh efficace Marco riesci a chiudere tu? ciao 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 Grazie a tutti.